L'indiscrezione riguardante Melissa Satta e Kevin Prince Boateng sono state pubblicate da oggi La crisi coniugale tra la showgirl Melissa Satta e il calciatore Kevin Prince Boateng, ex Milan, oggi giocatore del Sassuolo, era già nota da tempo La showgirl Sarda e il calciatore tedesco di origini ghanesi, per la cronaca, sono sposati dal giugno 2016, stanno insieme da lontano 2011 e sono genitori di Maddox Prince, nato nell'aprile del 2014 Le prime notizie riguardanti la crisi tra Melissa Satta e Boateng risalgono addirittura a prime delle festività natalizie che la coppia ha trascorso, ovviamente, da separata Durante il periodo delle feste, inoltre, Melissa Satta, bersagliata dai commenti e dalle richieste di chiarimenti da parte dei suoi fan, ha comprensibilmente perso la pazienza, soprattutto quando più di un follower le ha attribuito una nuova relazione con un giovanissimo ragazzo, figlio di una sua amica tra l'altro Durante i primi giorni dell'anno, infine, la showgirl 32enne ha condiviso un post con il quale ha velatamente parlato del periodo difficile che sta affrontando, con l'aiuto delle persone che ti vogliono bene si superano anche le dune più alte Stando ad una serie di indiscrezioni pubblicate dal settimanale Oggi, Melissa Satta e Kevin Prince Boateng avrebbero dato il via alle pratiche per la separazione, affidando l'incarico ad un noto avvocato La riservatezza di queste ultime settimane avrebbe un motivo ben preciso, facilmente intuibile, che è quello di tutelare il più possibile il piccolo Maddox Ecco perché, presumibilmente, nessuno dei due diretti interessati ha scelto di non parlare esplicitamente della vicenda Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like